Un saluto dalla redazione del Tg della mobilità. Riprenderanno mercoledì le potature su via Nomentana. Il tratto interessato tra le 8 e le 18 sarà sempre quello compreso tra Corso Trieste e Viale 21 Aprile. Per quel che riguarda il trasporto pubblico sono previste deviazioni per le linee 60, 66, 82 e 90. I bus percorreranno via di Santa Costanza e Corso Trieste. La linea 62 invece percorrerà Viale del Policlinico, via Morgagni, via Bari e via Catanzaro. Inoltre durante le potature saranno temporaneamente sospese 12 fermate. Restando in tema di potature segnaliamo che sono terminati invece gli interventi lungo Viale Trastevere che hanno interessato il tratto compreso tra Piazza Belli e Largo Bernardino da Feltre.